Continua a spingere! Forza! Congratulazioni! Lo abbiamo reinserito! Nani... Arriverò, arriverò, arrivo e ti mangio la pelle! Papà? Sono gay! Io non ho un figlio! Questa non è casa mia! A, B, C, D, E, fuoco! Qualcuno ha detto... Wafu? No! Un danno cerebrale! Un coltello! Il mio preferito! Vorrei che la gente fosse gentile con me! Il tuo desiderio è... Stupido! Ehi! La tua ragazza sa fare questo! Mh... Sexy! Sei licenziato! Non puoi licenziarmi, mi dimetto! Non puoi dimetterti, io mi dimetto! Non puoi dimetterti, sei una rana! Non puoi ranarmi, tu sei mia moglie! Non sono tua moglie, tu sei mia moglie! Beh, ciao tesoro! Come è andato al lavoro? Bene o male, ma mi sono dimesso! Non puoi dimetterti, sei licenziato! AAAAAAAA! Spero proprio di non essere colpito da un'auto! Questo è per aver dormito con mia moglie! Ehi! Le persone possono volare! Che peccato! Ah! È Johnny Piedone! E i miei piedi non sono grandi! Maledetto Johnny Piedone! Mmm... Questo non è il mio braccio! Ehi, hai un bel mento sai? Oh no! Un uomo armato! Ho ho ho! Ora ti infilzo! Ehi, Stallone! Dove? Buone notizie! Abbiamo salvato le sue gambe! Ed eccole qui! Ti lascio, Gerry! Te e le tue reazioni inappropriate! Wiiiiii! La mia bocca ha salto i denti! Non voglio essere madre! Oh no! visionare tr delle maconchalle e dabei la di storia dimi Attrolla Attrolla Grazie a tutti.